...ed ultimi della lista, ma primi per importanza, i nostri donatori. Grazie, cedo la parola al Vice Presidente Provinciale. Porto i saluti dell'Avis Provinciale e del suo Presidente Mario Provelli. Mi complimento vivamente per questa bella iniziativa che è stata portata avanti dall'Avis de Rovagnano. Ringrazio l'Amministrazione Comunale e sto notando che ultimamente le amministrazioni comunali danno grossa disponibilità. Un attimo, vogliamo consegnare una targa a ricordo. Piani vi ave sulle spalle. Corna! Paolo, vota Paolo, vota Paolo! Coglioni! Antonio Latriffa! Coglioni! 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 Com'è la storia? E' come se non l'avessimo fatta?